Aspetta che metto giù un po' di roba va Eeeh Guarda lì qua quanta roba Ok Mettiamo via Questo mortaio Qualcuno se lo vuole Sono oltre il muro Ricevuto Aghia Ho fatto dei medicinali Mi hanno spaccato un ginocchio Arrivo Sono nell'angolino e Oh cazzo mamma mia Aia Aia Perché io sono morto se no Ecco Sono morto anch'io Vai Solo che ho paura di ciccarlo Miseramente Prendo la mitelettrice però Stamma rifle Io prendo lo stramma rifle Ok Ascolta io la mitelettrice Piazziamocene una parte C'ho una benda C'ho una benda All'interno Eeeh si Te la mitelettrice Io sono lanciaraglie Cosa dove Niente con questa Con questa scurità Non facciamo assolutamente nulla Eeeh Stiamo messi così Finché non passa un blindato Eeeh Non sempre possiamo cambiare le sorte Della guerra di due Quella è una cosa nemica Ah che sparo Il lanciarasi No buono buono Con se volo Se prendo materiali Costruisco qualcosa Di tanto in tanto Per avanzare Se voglio Però qua Al final lo strisci Ti mettono sotto No? Poi progetti Se qualcuno si senti Mi ha fatto Mettere Eeeh Metto via Sto cazzo di lanciarazzi Che in fin dei conti La sera Non c'ha da niente E via E via E via E se li sono Già fregati Sì 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 Ora c'è Hanno ricominciato il bombardamento C'è uno che hurra Tutti a terra E' una maschera antigas Com'è che si mette la maschera antigas C'è lo slot proprio solo in inventario Basta le right clicchi Diciamo Ho una maschera antigas Dove sei in atto E comunque All'incrocio All'incrocio All'angolo retto C'è quello che fa il muretto Diciamo Dove stiamo fino Ok Il muretto è fatto angolo retto Però le proprie vanno a bombere oggi Ci siamo capiti Ok Eccoci Ciao Beh qua abbiamo fatto un bel angolino Ehm Una granata Qui moriamo tutti Ehm Non portare sfiga adesso Eh che cazzo Move 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 Che sta bloccando Ah scusa Ma guardano la mappa Stavo guardando la mappa sai Stavo guardando la mappa sai Ah ma Non capisco che l'overwatch tunnel Non puoi entrare la torre E' useless E' completamente useless Quindi la radio ti dice In prossimità nelle torri Alleate se c'è qualcuno Sì Ti dice ci sono nemici Bene c'è qualcuno qua Eh mappa Bene c'è qualcuno qua Non me ne ho accorto Capitano odio Odio Stupid E' alleato questo qua davanti Sì 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 Sparando delle conversioni Tipo chi è nelle foxone si sente invincibile Eh ma sai Quando la foxone è minca invincibile Come c'è stato dentro muori dopo 10 secondi Te lo assicuro Più o meno ti senti Io c'ho una maschera antigas Intanto addosso Ascolta provo ad andare in avanti quei Cosi qua Io aspetto il giorno Missione recupero Riforme un minuto Ma tipo abbiamo un sacco di bunker qua dietro Qualcuno che faccia Ah ma non ce l'abbiamo Ma 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 I'm going to dive in ali Oh Move Ah, eccoci qua. Uhuh, eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, siccome vedo una situazione un attimo critica, eh, tengo la pistola. Eh, medica, arrivo. Arrivo, arrivo. Arrivo. Arrivo, arrivo. Arrivo, arrivo. Arrivo, arrivo. Merda. Medico. Dimmi se ti serve un medico. Adesso che stiamo avvantando. Uhuh. Stiamo avvantando sempre. Vai. Vai. C'è in giù e stiamo curando una persona, madonna. Cazzo. Una granata ci ha schivato qua indietro. Ascolta, fammi un piacere. Vai, thumbhole. Porta i 4-5 caricatori. Mi dimentico per tanto. Vado. Anzi, aspetta un secondo che prima guardo che non siano qua. No. È nella vita. Eh, perciò. Così, tutta sta merda. Ma guarda qua, quanto bella. No, comunque, non c'è niente. Sa tornare, non c'è più. No, qua no. Aspetta che sono tornata. Stavo guardando qua. non mi è sangue che vedo nella mappa una cosa illegale dobbiamo ricordarci comunque ogni volta che giochiamo di vuotare come vuotare in grado di pace tu toglie alla metà allora colpini abbiamo guarda che rispettino cazzo sono l'uomo più forte al mondo cioè stanno otto caricatori senti non c'è nessuno ho visto alcuni che sono tutti in mezzo al fuoco per curare la gente ma a che pro non è senso che coraggio è senso di stupidità le mani indietro e cura quelli che potrebbero essere curati per davvero quello il discorso no vai alla sal no vai alla salto per curare uno che poi cosa ti fermi in mezzo alla strada a chiamare medico levati si no infatti aspetta vado di qua a vedere oh cazzo torna di la torna di la torna di la via 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 adesso non si può andare careful careful you need care cazzo posso curarlo è arrivata adesso la torbucci della granata sai è eh lag è nata sono preso il filo sono preso il filo siamo rimasti in quattro è morto è morto è morto è morto Cioè sembra tipo, non lo so, una scena al... Manteniamo la posizione fino all'arrivo, dei rinforzi. Ah, quant'è? Qualche strage c'è in mezzo a sto campo. Non muovetevi, soldati! Vado un attimo davanti a qui. Ehi, la Peppa! Eh, Rinesh. Eh, hai preso me. Non so perché sei noto qui. Sono lì loro, è impossibile. Ehi! No, mi ha ucciso! No, no, ecco qua. La mia revolve! Dai, aiutatemi a costruire! No, Sean Miller! Don't... Don't breathe in the... In the middle! Dai, non costruire me. Eh, che cazzo! Eh, dillo prima che ero ormai... A metà, no, eh! Cazzo! Ecco! E ricarica sto Cristo! Cazzo! 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 Volevo costruire un cannone! Non costruite in mezzo! Alla... Dietro la sandbag, se lo cazzo lo costruivo! Volevo� categorizzare, con l'argo suizatore. Oh! Ne fa giusto bene. Ah, i li si lungo. Ah, ночiam già... Cosa sembrite a popotäischen. È una porta in please. Hai visto bene. Si, parami, guarda in to... a questo punto sono a metà, lo finisco che ti chiedi? che ti chiedi? guarda, guarda, guarda ho bisogno di prendere, guarda 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 non fai lì medic, medic 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 man, wow f***, ho so close NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII la difesa in più ma devo metterci anche il tunnel per far sparare il cannone penso di sì ma il tunnel c'è già da vicinanza e un certo raggio non ricordo quanto è vero oh la, cannone fatto non sta sparando vabbè il raggio non è troppo lungo ah ok, perfetto allora, buon fatto ah, hanno discuto la watch tower la tower a destra non passa nessuno mi sono i munici di là o no cover me, guarda ho tre cariche ho due se trovi i munici di QMG vabbun guarda la line, guarda la line guarda la line guarda la line medic medic uff ma non ho capito se c'è qualcuno che ma non ho sparato io cos'è che vuoi non sono stato io perché c'era qualcuno che sparava dal bunker io ero lì, mi sono entrato e John Miller, ma non ho fatto niente senti com'è la destra, servono ripari sono munizioni che non abbiamo non ho fatto niente non ho fatto niente non ho fatto niente ho fatto un pillbox no, c'è già vieni a fare un altro vieni a votare in giro amici dove è che sei? qui, qui, qui qui, qui, qui qui, qui qui, qui qui, qui, qui qui, qui sei fuori ah no, c'è il tiraggio che è successo? ah, morto non ho neanche visto il pulpo in fronte, in fronte in the bush look, you are flying come è il pezzo dai, è molto bello è dove qualcosa? ire cosa non ha da tanti? no guarda i Toby ho preso ho preso sono qui, baby sono qui tu non ciò dici ok, sei lì è bene Ok, vai, vai They're all on the field to the left, field to the left Intanto, se ti è arrivato Si, si, vabbè ragazzi Prego, prego Voglio essere presente quando sali vecchio Mi sa che ci vuole un po' qua, eh, se sono a metà, dovrei diventare il cladusopo Io ho messo a blocco di V-Defs, gente Eh beh, si, quello poi io, ovviamente, più sale e più difficile Ehm... Allora, dicevi, ho kit medici Si, vende, così Ok, ho capito Ho capito Super 5, per favore Non fush Solo cover C'è uno che ha scritto John is ATM, ma l'ATM non è l'ATM Ok, ok Posso dire una cosa? Sì, così dove abbiamo combattuto all'inizio, nell'altro outpost Si Non ci sono più nemici, là Almeno... No, almeno c'è una torre di... dove abbiamo combattuto e non segna nemici Qui sono venuti tutti qua Cazzo Cazzo Dio Cazzo Dio Cazzo 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 c'è uno che sta facendo quello che volevo fare io ma tutti mi insultano costruendo che dove sei io sto in mezzo è più pericoloso in caso la testa abbiamo al nord abbiamo una bella schermaglia e io ho portato la roba per fare quindi meno che non faccio 20 kg con la pistola ma dovrei essere già un rambo dimmi se ti servirà un medico sono ferito ma lo sto salvinando vabbè siccome non c'è niente da fare vai che con me no 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 cadere per dire che è fai grazie a tutti